Allora, visto questo mio ripassaggio qui nel parco dopo aver fatto colazione, pensavo adesso di registrare una clip, spero sintetica, di due gruppi dell'area di San Francisco degli anni 90 americani di primaria importanza, ovvero sia i Primus e i Fate No More, che ai tempi venivano considerati, secondo me, un po' alle strette e molto erroneamente, crossover. Allora, inizio subito a parlare dei Primus. Era un trio, formato da un formidabile bassista, Les Claypool, completamente autodidatta, nonostante sia uno dei primi dieci bassisti al mondo di tutti i tempi, della storia del rock, è uno che praticamente ha imparato una tecnica tutta sua, l'ha proprio coniata a lui. C'ha dei tapping strani, c'ha delle slappature strane, delle accordature strane, insomma, è molto poco ortodosso, un po' come un Glen Gould del pianoforte, quando suonava Bach, insomma, che i puristi storcevano il naso. Colui l'ha fatto col basso e formò questo trio Primus, intorno all'88-89 a San Francisco, con dei fuoriusciti del chitarrista di un gruppo abbastanza importante, anche se forse minore, i Possessed del death metal americano, di almeno autori di un classico del death che si chiama, si intitola Seven Churches, quello è un bel disco, ascoltatelo, anzi, dopo l'ho posto, con quel chitarrista, è un batterista che in realtà era un po' di estrazione più jazzistica fusion. Insieme improvvisarono subito e ebbero subito la fortuna di incidere il primo album, tra l'altro dal vivo, per una semi-measure che era la Caroline, Suck on This, che è già un ottimo biglietto da visita. La Caroline chiaramente poteva garantire sia una buona distribuzione capillare e anche, insomma, far arrivare un po' a tutti i giornalisti, i promozionali. E questo disco effettivamente fu recensito anche in Italia da una rivista molto commerciale come Rockstar. Io mi ricordo la recensione di Alberto Campo di questo disco. E ne parlava, insomma, non ci capì molto, però ne parlò. Allora, il disco è ottimo, Suck on This, ha l'unico difetto di essere registrato forse un po' sotto tono per essere un disco dal vivo. Cioè, sembra suoni un po' da bootleg ripuliti, potrebbe essere realizzato, cioè è stato realizzato forse troppo in fretta, è giusto per far conoscere il fenomeno perché effettivamente era un qualcosa di inedito la loro proposta musicale. E c'è qualche intermezzo parlato di troppo, di Les Claypool che fa da Trayton Yon tra un pezzo e l'altro. C'è troppo parlato rispetto alla musica. Vabbè, questo peccatuccio veniale. Però i cavalli di battaglia sono praticamente già tutti lì presenti. Ma ciò che veramente esplose a livello, almeno mediaticamente, non dico a livello commerciale, ma che se ne parlò veramente un po' ovunque, su tutte le riviste, fu il disco successivo, uscito poco dopo, pochi mesi dopo, fritzel fry, quello che c'è una testa che frigge dentro una padella, e quello è il loro veramente capolavoro, caposaldo e cosiddetto crossover evoluto, che però gli sta molto stretto. E lì, appunto, si vede, innanzitutto, più coesione tra di loro come strumentisti. L'influenza zappiane è ancora più evidente. Poi hanno queste svisate del chitarrista che veniva appunto da un gruppo d'hatt, quindi con queste svisate un po' hardcore improvvise, inaspettate nei pezzi. I testi di Les Claypool abbastanza enigmatici, non ambigui, diciamo po' enigmatici, era sempre un po' sul non si capiva bene cosa voleva dire, così un po' misterioso, e proprio questo aveva il suo fascino. Il suo cantato era sempre un po' tra il nasale e lo psicotico. E insomma, era un disco che io ricordo che ai tempi chi non era abituato a quelle cose faceva dire un gran mal di testa, nel senso che a molti non piaceva, anche di critici professionisti non lo capirono. E stiamo sempre là, è Piero Scaruffi quello che l'ha spinta di più. E il disco è fenomenale perché appunto ha questo mix incredibile, unico, inedito, mai sentito prima, veramente mai sentito prima, di crossover d'avanguardia, in cui incasti armonici e slappate de basso, steccate, pezzi veloci hardcore, miniaturizzati, e fin anche improvvisazione paraggezzistica messa lì, insomma, sto disco qui pare che abbia influenzato una buona generazione di gruppi new metal venuti dopo, soprattutto i Korn e i Limp Bizkit. E io ci credo, soprattutto sui Limp Bizkit. Sui Limp Bizkit la sento l'influenza un po' dei Primus. Anzi, dei Limp Bizkit io non mi stancherò mai di raccomandarvi il loro secondo LP, Significant Other del 99, che è quello uno dei migliori dischi non solo del new metal, ma anche tra commissione tra hip hop e new metal, con un cantante che veramente aveva le carte in regola per cantare, non era solo uno che stava là e urlava, e ripeto, sottovalutati, insomma, bistrattati, i primi due dischi sono ottimi, specialmente il secondo. Questo ve lo ridico sempre là, Significant Other dei Limp Bizkit del 99. Questo, vallò, Fritz & Frye, quindi si chiude in bellezza come grande capolavoro dei Primus. Poi, appunto, siccome era il periodo del post Nirvana, del post Nevermind, tutte le major stavano a caccia di nuovi fenomeni, e chiaramente pure loro erano appetibili, un po' come i radocci di Peppers, eccetera, però i radocci di Peppers, rispetto a loro, erano molto più semplici. E lì mise sotto contratto la Interscope, che era un'etichetta abbastanza potente, lo è tuttora. E' inciso in un disco, quello uno, forse il più famoso, Sailing in the Seed of Cheese, in cui in un pezzo c'è persino Tom Waits, e il figlio di Tom Waits, di 9 anni all'epoca, che canta insieme a lui in un pezzo. Questa cosa abbastanza bizzarra, che un bambino di 9 anni era fan dei Primus. E il disco prosegue la stessa scia di Fritz & Frye, leggermente con meno asperità, più levigato, meglio arrangiato, meglio prodotto in studio, da tipicamente produzione major, ma non rovinato dalla produzione major, perché è sempre un ottimo disco, ed è quello che effettivamente l'ha fatti conoscere su scala mondiale, e quel disco, insomma, passò anche su MTV, parecchi se lo comprarono, e già cominciavano ad essere noti anche a livello commerciale. Poi ne avevano un'altra ancora, nel 93, Pork Soda, con una copertina marroncina, sempre lì con un mostriciattolo in copertina, tipo un ranocchio, e anche questo, più o meno, stessa scia, stessa falsariga, forse leggermente più mainstream, leggermente più mainstream. Poi nel 95 ne fecero uno, che all'epoca spiazzò un po', perché era quello più normalizzato, c'erano meno steccate funk, meno dissonanze, meno asperità, però tre suite abbastanza anomali per un gruppo del genere. Erano tre suite di un funk d'avanguardia progressivo, praticamente, un progressive funk, un funk progressive, un po' figlio dei Parliament, un po' figlio di George Clinton, dei funkadelic, però, chiaramente, sempre con l'impronta dei Primus e di Les Claypool, che ricordo Les Claypool, grande amico di Mike Watt, e Mike Watt è sempre stato un grande, se posso dire, sponsor dei Primus, dei Primus, quindi, se uno come Mike Watt, ci possiamo credere e ci possiamo stare. Poi, dopodiché, io l'ho perso un po' di vista, mi ricordo Brown Book del 98, però quello era veramente troppo normalizzato, erano canzoni veramente un po' troppo semplici per i Primus, e lì mi delusero. Invece adesso, questo è a grandi linee per farvi un po', ecco, l'illustrato, questo grande trio dell'avanguardia funk di San Francisco. Vi voglio presentare, invece, un grande gruppo, sempre della famiglia di San Francisco, che erano i Fate No More, nati nell'85, lì proprio nell'entourage proprio dell'Alternity Tentacles, credo, e loro, all'inizio non c'era ancora Mike Patton, proponevano all'inizio un hardcore un po' più evoluto della media, con We Care A Lot, ma soprattutto il grande botto lo fecero nell'88, quando filmavano per la Slash, con Introduce Yourself. Introduce Yourself, che ancora non c'era Mike Patton, praticamente presentò questo gruppo tra hardcore, funk e etnica, c'è anche un po' di Peter Gabriel dentro, quindi anche Influenza, un po' vagamente The Passion, quindi anche Afro World, era tutto un bel mix-up di generi eterogeni, eterodossi, messi però molto bene tra di loro, questo considerato forse il loro veramente vero capolavoro massimo, a livello musicale, io sono d'accordo, perché è il loro disco più eclettico, il meno volendo, anche se è un disco dal potenziale commerciale, perché comunque ce l'ha, suonato da Dio, peraltro, però le vendite furono abbastanza scarse, rispetto a quello che venne dopo. Quando poi cambiò il cantante, che entrò il famoso Mike Patton, con The Real Thing, nel 1989, ecco, già lì appunto, il successo commerciale arrise di più, perché MTV li spingeva di più, le recensioni incominciavano a uscire un po' di più, e lì, insomma, si fecero un nome soprattutto come band live, e suonava veramente bene, infatti quello è un disco live, per The Real Thing, che è suonato, insomma, esprime bene tutta la potenza del gruppo. Ancora dopo, anche qua, diciamo, il genere però cambiò un po', perché con Mike Patton non lui spostava più sui suoi vocalizzi, che su le armonie proprio così bislacche, intricate e eclettiche, come era Introduce Yourself. ma con Angel Dust del 92, rimisero un po' tutto in carreggiata, quello è un disco di crossover, crossover hardcore, diciamo, crossover metal, dalle istanze piuttosto depresse, piuttosto malinconiche e depressive. E' un disco abbastanza lungo, me lo ricordo, dura più di un'ora, con quel cigno in copertina, che già dice tutto. Quello è il miglior disco della seconda fase dei Faith No More con Mike Patton. Poi Mike Patton, sappiamo, poi c'è fu un altro disco che fu King of the Day, che fu però sottotono, però intanto Mike Patton aveva un suo progetto solista, che era un Mr. Bungle, prodotti da John Zorn, e lì diede invece spazio alle sue velletà sperimentali. Lui poi, tra l'altro, amico dei Romani Zoo, ci collaborò pure insieme, fondatore della Ipegac, che era una bella etichetta, su cui in cui ci sono anche gli Zoo, gli Isis, Dalek, e tanti altri. Che dire? Ecco, questo è quei Mr. Bungle, insomma, sono dei dischi di crossover evoluto, che io ho i primi due, c'ho il primo, quello prodotto da John Zorn, e quell'altro, che si chiama Disco Volante, che è pure ancora un buon disco. Poi dopo, su Ipegac, lui fondò un suo gruppo che erano i Phantomas, in cui rivedevano un po', in chiave Neger City, un po' Zorniana, ha anche i temi di film famosi, un po' sulla scia di, appunto, di John Zorn, quei Neger City, perché lui poi era anche amico di John Zorn. Però anche i Phantomas, insomma, due o tre titoli ce l'hanno, mi ricordo uno che era Sursum Cordia, e l'altro di Rex of Scud, tutti caratterizzati sempre da copertine completamente nere. Ecco, quindi, insomma, a grandi linee, adesso vi ho presentato questi due capisaldi del crossover anni 90 californiani, e quindi dovete solo, vabbè, spero che conosciate già, ripeto, su Spotify si trova tutto, ascoltate bene, immagazzinate, e godete. Ancora detto questo, ancora buon Ferragosto a tutti quanti voi.